Bentornati nel mio salotto e stasera parliamo di poker. Scherzo, però effettivamente dal poker possiamo imparare un sacco di cose che ci possono tornare utili tutti i giorni nelle nostre trattative. Se cerchiamo il termine trattativa su Google, ne vengono fuori più o meno mezzo milione di risultati, quindi apparentemente sembra che ci sia rimasto poco da dire al riguardo, ma io lo stesso qualche considerazione vorrei farla lo stesso, partendo da un presupposto, e cioè che la trattativa altro non è che una vendita. Addirittura Peter Seale, il fondatore di Paypal, dice che se accanto a voi non vedete un venditore, vuol dire che il venditore siete proprio voi stessi. Questo vuol dire che la Terra è abitata esattamente da 7 miliardi e mezzo di venditori. Addirittura Douglas Adams, nel suo libro di fantascienza umoristica, Guida galattica per gli autostoppisti, dice che la Terra è stata fondata proprio come rivoluzione, come rivolta contro i venditori. Questo perché tutti quanti noi, ogni giorno, vendiamo. E vendiamo prodotti, vendiamo idee, vendiamo le nostre preferenze, i nostri gusti, vendiamo noi stessi. Lo facciamo per lavoro, lo faccio io per la mia musica, lo faccio per il mio libro, ma in realtà lo facciamo tutti quanti, ogni giorno, anche senza saperlo. Perché lo facciamo nelle nostre relazioni con gli altri, nelle nostre relazioni personali, proprio perché vendiamo noi stessi. Perciò, dopo la sigla, approfondiamo questo discorso. 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 Allora, iscrivetevi al canale e accendete la campanella, così il prossimo video non mi dimentico di invitarvi. Allora, io stasera non voglio affrontare la trattativa da un punto di vista tecnico. Non voglio parlare di come si affronta una trattativa o quali sono le migliori tecniche per vincere una trattativa. Magari saranno argomenti di altri video. Io stasera vorrei soltanto parlare della prima cosa da fare in una trattativa, e cioè gestire le emozioni. Prima di tutto, le trattative necessitano delle stesse competenze che si hanno nel poker. Quindi una focalizzazione strategica, l'immaginazione per prevedere le alternative, saper calcolare anche le probabilità, la capacità di leggere le espressioni facciali, di capire le posizioni degli altri e alcune volte anche di bleffare. Che però non significa mentire. Però i giocatori di poker prendono sempre delle decisioni unilaterali. Questo perché ogni mano è un gioco a somma zero, si dice. O si vince o si perde. Mentre invece in una trattativa dobbiamo sempre provare con il nostro interlocutore a raggiungere un accordo, quindi a saper mediare. Perciò dov'è che sta esattamente l'analogia? Nella faccia. Dobbiamo perciò imparare ad avere una faccia da poker. Dobbiamo perciò imparare a saper controllare le nostre emozioni e soprattutto dobbiamo imparare a saper rivelare le emozioni che vogliamo. Quindi non dobbiamo imparare ad avere una faccia inespressiva, tutt'altro. Dobbiamo soltanto imparare ed essere capaci di mostrare le emozioni giuste nel momento giusto. Tutti quanti noi proviamo delle emozioni, ma siccome siamo tutte quante persone una diversa dall'altra, ognuno di noi gestisce e subisce le emozioni in maniera differente. Questo è il motivo per cui i bravi negoziatori, per utilizzare un termine tanto caro a Chris Voss, che era un ex negoziatore di ostaggi dell'FBI, e tra l'altro se vi capita leggete il suo libro bellissimo Never Split The Difference, dice che dobbiamo anche saper studiare le nostre emozioni prima, durante, ma anche dopo la trattativa. Per essere capaci di saperle minimizzare oppure massimizzarle nel momento opportuno e secondo necessità. Ma vediamo adesso a quattro semplici strategie che ci possono tornare utili per saper gestire queste emozioni. Primo, eliminare l'ansia. L'ansia è uno stato di disagio in risposta a degli stimoli minacciosi, come possono essere per esempio l'ansia da prestazione o proprio l'ansia del risultato della nostra trattativa. E dobbiamo evitare l'ansia perché ci fa sentire fragili, ci fa sentire deboli, ci fa sentire insicuri e spesso ci fa abbandonare anche prematuramente la nostra trattativa. Ma quindi come possiamo fare per gestire l'ansia? Esercitandoci. Cioè provando e riprovando quella situazione che ci crea disagio. È un po' quello che succede nei role play nelle scuole di vendita. Perché l'ansia è spesso una risposta a degli stimoli nuovi. Quindi la cosa migliore è rendere quell'esperienza il più familiare possibile, così che noi possiamo sentirci più al nostro agio. E questa è una tecnica che viene utilizzata anche dagli psicologi clinici per curare l'ansia, attraverso poi la terapia dell'esposizione. Cioè chi ha paura di volare, per esempio, come me, viene esposto gradualmente e progressivamente all'esperienza del volo. Magari lo si fa contestualizzando quell'esperienza, aiutati magari anche prima dai rumori, poi per esempio dai profumi, eccetera, fino a rendere il più familiare possibile l'esperienza del volo. E così ormai anch'io prendo gli aerei. 2. Gestire l'ira. L'ira, proprio come l'ansia, è un'emozione negativa, con la differenza però che l'ansia è autoorientata, mentre invece l'ira è orientata verso qualcun altro. C'è ancora qualcuno che è convinto che l'ira sia utile e possa essere utilizzata a proprio vantaggio nelle trattative, ma in realtà sono quelle persone che considerano le trattative come fossero un gioco a somma zero, proprio come il poker, cioè o si vince o si perde. Ma in realtà i più bravi negoziatori, i migliori commerciali, sono quelli che hanno una prospettiva differente. Infatti vedono ogni trattativa come un risultato condiviso, cioè come se entrambi, sia il venditore ma anche il compratore, riescono a raggiungere il proprio obiettivo, che per esempio per il venditore può essere la chiusura del contratto, mentre invece per il compratore, quindi per la nostra controparte, può essere proprio il valore che percepisce dall'acquisto del nostro prodotto. Bisogna cambiare quindi la mentalità della trattativa e bisogna ancora una volta cambiare prospettiva, che è sicuramente la soluzione più efficace. Approcciare una trattativa come fosse una battaglia ci fa assumere sempre una modalità bellicosa e questo ci porta sempre in contraddizione, mentre invece noi dobbiamo imparare a saper mantenere le nostre conversazioni il più produttive possibile, sapendo sempre quello che dobbiamo dire, ma soprattutto imparando a tacere quello che proprio non dobbiamo dire. Io lo so che questa cosa non risulta sempre semplice, soprattutto quando di fronte abbiamo un cacacazzi di professione e vi assicuro che ne incontro parecchi durante la giornata. Ma anche in questo caso ci possono essere dei piccoli espedienti che ci aiutano per risolvere le trattative in questione. La prima cosa fra tutte per esempio è provare a costruire un rapporto umano con il nostro interlocutore. Lo possiamo fare prima della trattativa, durante la trattativa, ma anche dopo la trattativa, riducendo quindi la possibilità o la probabilità che il nostro interlocutore si faccia prendere dall'ira. Se invece di fronte abbiamo qualcuno che si incazza comunque, allora lì comincia a diventare più difficile e in quel caso forse ci torna utile scusarci, anche se in realtà noi non abbiamo torto e anche se in realtà l'ira della nostra controparte non è giustificata. Ma vi assicuro che saper calmare il nostro interlocutore in una trattativa ci mette sempre in una condizione di forza, fidatevi. Ma col tempo e l'esperienza ho imparato che il modo migliore per gestire l'ira resta sempre il considerare una trattativa come se non dovesse chiudersi sempre in quel momento nella prima battuta, perché le trattative in realtà si conducono nel tempo. Quindi anche se abbiamo voglia di tirare proprio una testata al nostro interlocutore perché ha un po' i suoi problemi in testa e ce li scarica contro, sappiate che una pausa spesso è la soluzione veramente migliore. Ma se anche questa cosa non funziona, allora peschiamo il jolly e cerchiamo di tramutare l'ira in tristezza. Io lo so che questa cosa può sembrare illogica, ma vi assicuro che una tristezza condivisa può portare anche a delle reciproche concessioni. E questa cosa nelle trattative funziona. 3. Gestire la delusione e il rammarico. È normale vedere le trattative come bianche o nere, cioè trattative perse oppure trattative vinte. Ma in realtà la maggior parte delle trattative si concludono con il raggiungimento di determinati obiettivi e il fallimento di altri. Le trattative in realtà sono l'esatto equilibrio tra vittoria e sconfitta. Ecco perché la delusione per il risultato sperato può diventare una forza molto potente se utilizzata alla fine di una trattativa che è andata male, perché c'è una forte relazione proprio tra l'ira e la delusione. Ricordatevi quando da bambini vi dicevano sono molto arrabbiato con te oppure sono proprio deluso da te. Perché mentre l'ira infatti porta sempre un atteggiamento difensivo e un conseguente stallo, la delusione invece porta a un atteggiamento più costruttivo e spesso può portare alla nostra controparte anche a rivedere le proprie posizioni e le proprie scelte. 4. Per finire, dobbiamo stemperare la felicità e l'eccitazione. Voi lo sapevate che nella National Football League americana sono vietati gli eccessivi festeggiamenti per una meta? Questo perché questo tipo di atteggiamento genera malanimo e allo stesso modo anche noi dobbiamo trattenere l'eccessiva felicità per una trattativa andata in porto conclusa bene, proprio per evitare di toccare la suscettibilità del nostro interlocutore. Ora, a meno che non siamo stati così bravi a bleffare e far credere al nostro interlocutore che la posta più alta in palio è stata proprio lui ad aggiudicarsela, allora dovremmo un pochettino stemperare la nostra felicità per due motivi. Prima di tutto perché dobbiamo avere rispetto per i sentimenti degli altri, ma poi anche perché l'eccessiva eccitazione porta ad avere troppa fiducia in noi stessi e proprio ci fa peccare di un eccesso di sicurezza che di sicuro ci farà andare male la trattativa successiva. Ciao, alla prossima! Ciao, alla prossima!